La mia madre mi diceva sempre «Signora Sofia, la testa tra le nuvole». Un giorno mi ha detto che voleva andare in un corso di canto. Mahmood! Sentire appunto cantare le mie canzoni però con tutti gli accenti diversi in tutta Europa è stato veramente qualcosa di unico. Mi piace un sacco come è lui, davvero mi legge dentro. Sandro? Io mi ricordo il giorno che mio padre proprio fosse andato via di casa che mi aveva portato questa famiglia di Orsi Acchiotti. I suoi malesseri non li racconta. La mia mamma, ragazza. Credo sia la mamma migliore che mi potesse capitare. Anch'io le ho scoperte tutte dalle canzoni, tante cose. Soldi, Mahmood! Noi non riprendiamo falsità, solo vita reale. Oh, sono con Blanco eh! Sei bravissima! Vai dall'altra parte del mondo e trovi le persone che cantano le tue cose. Credo che il suo passato sia poi diventato un'antenna molto potente per esprimersi in questa maniera così profonda. Non pensavamo mai che ci arrivasse tutto questo. Spero ancora di fare questo per tanto tanto tempo perché mi fa sentire meglio. Adesso mi saluto. Ciao! 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 Ciao!